Buonasera amici, breaking news della serata, e che news? Che aspettavamo tra l'altro tutti da tempo, finalmente Cristiano Ronaldo è guarito dal maledetto coronavirus, a renderlo noto attraverso una nota è stata proprio la Juventus, e quindi Cristiano Ronaldo, dopo aver saltato quattro partite, potrà essere già disponibile per la trasferta di Cesena, dove la Juventus affronterà lo Spezia guidato da italiano. Io credo che questa sia una notizia importantissima, non tanto per la salute, che è sempre l'argomento principale quando trattiamo questi casi, del diretto interessato, e nemmeno perché sarebbe quasi banale, anzi lo è, sottolineare quanto sia importante per la Juventus affidarsi al suo giocatore più forte, nonché il più forte, scusate il gioco di parole, al mondo. Però, in una situazione in cui la Juventus sta ancora cercando la migliore espressione tecnico-tattica, ritrovare le certezze rappresenta cosa buona e giusta. Cristiano Ronaldo è un giocatore che da solo ti sposta all'equilibrio, ma soprattutto alza il livello di attenzione collettiva in maniera esponenziale, cioè per giocare al suo fianco devi elevarti, non al suo livello, perché è pressoché impossibile, ma al miglior tuo. Quindi da questo punto di vista, già andare contro lo Spezia, con il tuo miglior giocatore, con la squadra che è chiamata a fare risultato, anche perché non si possono perdere altri punti in maniera banale. La Juventus ne ha già persi troppi tra Roma, Crotone, in casa con il Verona, cioè se vuoi veramente vincere questo decimo scudetto devi iniziare a pedalare. E Cristiano Ronaldo quindi porterà motivazioni nelle motivazioni nella sfida delle 15 del Manuzzi di domenica, con, chiaro, la condizione atletica non può essere ottimale perché Cristiano Ronaldo, pur essendo asintomatico, quindi rispettando ovviamente tutto il protocollo e tutto l'iter necessario, si è allenato con i suoi mezzi. Non dico di fortuna perché la sua villa a Torino credo che poi corrisponda a una palestra dei sogni per tutti noi comuni mortali, però è chiaro che poi quando ti manca il campo, ti mancano le nozioni tattiche, ti manca anche poi l'amalgama con i compagni in squadra. Oggi per esempio è stato molto carino Federico Chiesa, quando ha detto io non vedo l'ora di conoscerlo Cristiano, perché da quando sono qui purtroppo Cristiano è risultato positivo al Covid, quindi è stato in isolamento, non ho avuto modo né di salutarlo né tantomeno di allenarmi con lui. Ora cosa prevede l'iter? Che dopo il tampone che certifica la negatività, c'è una sorta di visita legata praticamente all'idoneità sportiva, una visita che tra l'altro dura a lungo, vanno via tra tutto circa 24 ore, però sono tutte cose che non preoccupano la Juventus, perché essendo risultato negativo al Covid, ovviamente prima delle 48 ore dalla partita, dalla prossima partita, quindi Cristiano Ronaldo contro lo Spezia sarà abile e ruolabile, poi chiaro toccherà a Piero decidere se farlo giocare dal primo minuto o dalla panchina, però inizia a essere un bel problema, non avere Cristiano Ronaldo sposta in maniera anche piuttosto oggettiva, lo sa bene la Juventus che ha avuto senza il suo campione portoghese un cammino balbettante. Insomma ragazzi, finalmente una notizia importante, una notizia rosa, una notizia che poi deve anche portare fiducia ad un ambiente secondo me eccessivamente negativo, ecco in questo caso sì, si può usare il negativo perché è una bella parola associandola a Cristiano Ronaldo e al coronavirus. Se siete tifosi da Juventus, ragazzi, questo è il canale giusto che fa per voi, iscrivetevi qui, proprio al mio canale, e mettete like nei contenuti. Un abbraccio!